L'Europa protagonista all'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio. Questa mattina è stata inaugurata la panchina dell'Europa per diffondere i valori di unità e coesione dell'Unione Europea. La panchina blu è stata collocata in un punto qualificante del campus universitario di Chieti ed è stata inaugurata alla presenza, tra gli altri, degli studenti Erasmus della D'Annunzio provenienti da varie parti del mondo. Un messaggio di cittadinanza europea, l'idea della panchina d'Europa alla D'Annunzio nasce da una collaborazione tra il Centro di Informazione di Europa dei Chieti e il settore di Ateneo, Internazionalizzazione ed Erasmus. La panchina è messa in un punto strategico, la piazzetta di lettere, quindi sono coinvolti i ragazzi Erasmus, ma anche la cittadinanza tutta, gli studenti, i docenti, proprio perché la mission del Centro di Informazione è sostenere i temi, le tematiche, la formazione dell'Unione Europea, soprattutto nel momento in cui viviamo. Ogni anno il 9 maggio si celebra la Festa dell'Europa, quindi l'obiettivo era quello di coinvolgere gli studenti internazionali in mobilità all'Università d'Annunzio, inaugurando la prima panchina dell'Unione Europea. 24 panchine in totale, come detto siamo quasi alla metà, questa si inserisce appunto in un percorso più ampio che vuole creare l'amministrazione nella collaborazione con diverse realtà, l'Università appunto si unisce a questa grande collaborazione, a questa famiglia che va a festeggiare anche oggi l'ennesimo diritto, quello appunto il diritto alla partecipazione europea.